Il governo fortificio era vietato pensare quello che gli dicevano che non si poteva pensare. Il governo fortificio era vietato e non si poteva pensare che non si poteva pensare. Il governo fortificio era vietato e non si poteva pensare. Magari sulla testa! Mani sulla testa giratevi! Avanti, è il primo che a scopo si trova la palla della schiena! avanti avanti Grigoba su su fuori su 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 su